ciao a tutti e bentornati sul drone lander oggi vi mostrerò in modo semplice come collegare in modalità ppm la vostra ricevente alla micro apm o in questo caso al micro px4 come riceventi avrò quella del cherson cx 20 e la fly sky fsi a 10 ci vediamo al termine del video ecco la micro px4 a cui abbiamo collegato alla porta rc in l'apposito connettore che andrà al ppm encoder che servirà per collegare appunto il radiocom alla ricevente in modalità ppm e questi sono il numero dei canali con il ground e i 5 volte positivi questa invece la ricevente del cherson cx 20 dovremmo collegarlo sulla prima fila che vi sto indicando ora partendo dall'alto con il negativo centrale positivo e più basso fila del segnale ora prendiamo dalla dall'uscita del ppm i due cavi per il positivo e negativo che sono il rosso e nero nella fattispecie ora prendiamo il cavo il cavo del negativo e lo andiamo a collegare sul primo pin in alto della prima fila come vi sto facendo vedere ora ora prendiamo il positivo lo colleghiamo a quello centrale e infine prendiamo il cavo corrispondente al canale 1 e in questo caso è quello giallo e lo andiamo a collegare sul primo pin a relativo alla fila dei cavi segnali dopodiché fatto questa prima connessione abbiamo alimentato la nostra ricevente e ora velocemente andiamo a prendere in sequenza dall'1 all'8 e andiamo a collegare sempre sulla prima fila tutti i cavi segnali tutti i cavi segnali tutti i cavi segnali ecco questo è il risultato finale come potete vedere tutta la prima fila è relativa al segnale dei vari canali ora passiamo alla ricevente del fly sky anche in questo caso dobbiamo individuare la porta dove c'è l'alimentazione della ricevente che è sempre la prima volta andiamo a collegare il negativo sul primo pin colleghiamo il positivo sul pin centrale e come nella precedente ricevente andiamo a prendere il cavo del primo del canale 1 e lo andiamo a collegare sul primo pin relativo al segnale di conseguenza andiamo a collegare tutti gli altri dal primo dal dal secondo all'ottavo canale fino alla fine eccoci qua al termine del tutorial spero sia stato abbastanza semplice comunque se avete delle domande da farmi troverete tutti i riferimenti nella descrizione di questo video non dimenticate di mettere un like lasciate commenti e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale ciao a ciao a tutti ci vediamo al prossimo video